Finisce in gara 2 l'avventura ai playoff di Serie C Silver per il semprefarmacia.it Basket Bellizzi. La Virtus Pozzuoli vince 61-72, bissando il successo di gara 1 e stacca il pass per la finale. I Voodiolani si confermano bestia nera per Bellizzi, sconfitto 4 volte su 4 nell'arco di questa stagione. Alla squadra di coach Orlando resta però la soddisfazione di essere riuscita a restare nel match fino all'ultimo quarto, cosa non riuscita 4 giorni prima al Palenrico. Parte subito bene Pozzuoli che apre il match con un parziale di 7-0 firmato da Dimitrov, Simeoli e la bomba di Caresta. Ci pensa Trapani a scuotere giallo-blu con la tripla che scrolla di dosso la tensione padrone di casa. La squadra di coach Orlando segna un contro-break di 9-2 e si riporta in parità sul 9-9. Pozzuoli conferma però la grande solidità mostrata in tutta la stagione ed arriva alla prima interruzione avanti 14-15. La seconda frazione si apre nuovamente con gli ospiti che spingono forte sull'acceleratore. Loncarevic è straripante sotto canestro e firma il break di 6-0 che apre il quarto. Bellizzi risponde dall'altro lato ancora con una tripla di Trapani, uno dei migliori tra le fila giallo-blu. La posta in palio è alta e la tensione si fa sentire. Sul tentativo dalla distanza di Orefice, i direttori di gara fischiano fallo ai danni di esposito. Le proteste a muso duro costano il fallo tecnico al numero 57. Il 3 su 4 dalla lunetta firmato da Orefice porta Pozzuoli a più 10 sul 17-27. I giallo-blu tentano la reazione e trascinati dal solito combattente Dondur arrivano all'intervallo lungo sul 22-29. Al rientro dagli spogliatoi, Pozzuoli trova subito il più 10 grazie alla bomba di Longobardi. Il distacco si mantiene a lungo sul filo della doppia cifra. Coach Serpico fa leva su una rotazione di qualità che permette agli amaranto di tenere sempre alto il ritmo. I padroni di casa mettono in campo cuore e carattere per non perdere di mano il match. Capitani Mauro trova due conclusioni da lontano nel giro di pochi minuti, subito però vanificate da Dimitrov e Longobardi che colpiscono anch'essi dall'arco dei 6-75. La tripla di Spinelli e l'1 su 2 dalla lunetta di Dondur portano il match all'ultima interruzione sul punteggio di 43-50. Costretto a rincorrere per tutto il match, Bellizzi trova nei primi 120 secondi dell'ultimo quarto lo strappo che può riaprire la partita. Il canestro di Spinelli e la tripla di Esposito riportano il giallo-blu a sole quattro lunghezze di distacco sul 48-52. Il paraberto in guerra è un catino che ribolle di passione. Coach Serpico allora è costretto a spendere il team out nel primo vero momento di difficoltà dei suoi ragazzi. Al rientro sul parquet, Bellizzi avrebbe la possibilità di riaprire definitivamente la gara. Le triple tentate però da Di Mauro e Spinelli non trovano fortuna. E' la sliding doors del match con Pozzuoli che ritrova slancio e vigore e mette a segno un parziale di 13-1 che taglia le gambe ai padroni di casa. Sotto di 16 lunghezze sul 49-65 i giallo-blu non hanno più la forza di reagire. Sotto i colpi di Dimitrov, il migliore in campo con ben 21 punti messi al referto, Bellizzi sprofonda fino almeno 19 sul 51-70. Negli ultimi tre minuti di gara Pozzuoli si limita a gestire il punteggio fino alla sirena finale che chiude la contesa sul 61-72. Si conclude così l'annata del basket Bellizzi con un pizzico di rammarico ma con la soddisfazione di aver raggiunto un traguardo comunque prestigioso. I giallo-blu lasciano il campo tra gli applausi scroscianti del proprio pubblico che rende il giusto tributo alla squadra di Goccio Orlando. Applausi ricambiati da parte dei giallo-blu a San Ciro un rapporto simbiotico vissuto per tutto l'anno tra squadra, società e tifosi.